eccoci tornati a resident evil revelations 2 una torre radio dovrebbe essere quella qui con barry barton cosa fai qui tutta sola i tuoi genitori non ho più i genitori ma tu dove cazzo si puoi tutta sola oh ti ha presa come ha preso la mia piccolina non si può nemmeno cambiare che armi bellissime che c'ha dato la sua python non è altro che la magnum la samurai edge ma questa è la pistola di wesker che ci fa nelle tue mani oh i barri di resident evil 5 vediamo cosa c'è nell'inventario mi auguro che qui alla fine ci sia anche il lancio mi faccio paura no sembri a posto ho detto sembri a posto ma poi questa di qua attenta cazzo spunta cazzo spunta questa ragazzina ce la dobbiamo portare a presso però sono contento che si sia fatto vivo nel gioco very bar ok devo andare dall'altra parte andrò alla torre però qualcosa mi dice di controllare la barca andiamo a vedere cosa c'è andiamo a vedere cosa c'è andiamo a vedere cosa c'è invece che si mi fa entrare nella barca ok eccolo come potevo lasciarla indietro lascerei indietro volentieri questa ragazzina pensavo saltasse invece no ehm vorrei vedere che devo salire da lì dove c'erano gli insetti schifosi ehm domanda dove cavolo devo andare? seguimi sì dove diamine devo andare? per andare dove devo andare? per di dove devo andare? ma siamo seri dai dove dove diamine devo andare? mi sto perdendo qua non è che devo aprire il cancello per caso sì sì certo col filo spinato qua sono ceduta la scala ma dove diamine devo andare? oh ecco oh come ti chiami piccola? Natalia ecco Natalia beh è proprio un bel nome io sono Barry il mio nome è Bart Barry Barry Bart esatto facile da ricordare è vero è vero è vero non spreco pallottole con voi fate schifo che schifo ma ancora L'emblema L'emblema torre Uno su otto Ma gli altri dove cazzo sono? Gli altri Gli altri Emblemi ma dove diamine sono? Questa sembra l'unica via di accesso Ma che schifo Che schifo Gli insetti schifosissimi siete Andiamo Di nuovo dentro L'erba rossa Ricordo male o in Resident Evil Revelation 1 Non c'erano le erbe rosce Comunque si ripeto Revelation 1 E' stata veramente una paccata Per me Quali mostri? Quali mostri? Mica ci sono mostri qui Che cazzo siete? Nelle mummie Ehm Tutto che me la colleghi è esatto Io me la squaglio Se posso Non me la posso squagliare Non mi va di usare il fucile a pompa Ah non ce l'ho E no E no Ah l'erba Mi la metti segnati come E poi possono essere combinati Vabbè queste si sono Eh no Ah Questa si che è una figata Che l'erba verde Ponendolo all'erba rossa Mi concedono altre erbe verde Ma meno male che non mi ha ammazzato con quel colpo Ma meno male Ma meno male Oh lo meno male Ah Muunizioni fucili Per essere Bene Va bene Ma meno male Ma meno male Ma meno male Ma male Va bene come lo sai riesco come a vederli cosa in modo che gli amici riescano a trovarla più difficilmente nella banca trovare oggetti nascosti puntando il mondo chissà com'è mai come Moira un'inizione di pistola ok te lo passo eccole che cazzo ma tu sai con me non sparare ti prego eh no cazzo perché ai 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 ecco questa mi è piaciuta molto Dove diamine sono? Ma davvero non mi vedi? Ma sei così idiota? E' semplicissimo Ho un emblema Ok vediamo cosa c'è Non la voglio la mappa Non la voglio visiva Se una version 1 si poteva togliere Se non ricordo male Oh cazzo Così si fa Oh cazzo qualcuno sta arrivando E' anche molto pericolosamente Oh no Oh no Oh no Oh no Ti prego Non prendi Oh no Grazie a tutti No ti prego Ci muori Ci muori Ci muori No che non mi hai visto No che non mi hai visto No 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 Quello è vivo Si risveglierà No No Per favore No Devo farla salire lì Prima voglio andare a controllare un'altra cosa Ce ne sono due Ce ne sono due Sali C'è scritto sali C'è scritto sali Sali minerali Dai Ma Ma Mi devi prendere in giro C'è scritto sali Ci sono due C'è No 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 E' un po' di più. questo si deve sbagliare per forza vero? si deve sbagliare per forza ce la fai? no c'è qualcosa più avanti, attento vieni con me arrivo penso che i capitoli praticamente sono quattro ma non negli episodi dei capitoli però non male come demo c'è più di un'ora di gioco non mi posso lamentare onestamente andiamo le chiavi la sala di controllo ok quindi torneremo lì passaci dai lancia mattone oh cazzo c'è qualcosa più avanti attento il mostro arriva tu mi vuoi dire che con un colpo di mattone il nemico si è come posso dire oh polvera sparo il nemico si è sconfitto così ecco ok via libera hai più fegato di me ok aspetta un attimo ah certo ma qui siamo si 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 qui non siamo stati con Claire e quella mocciosa si si non mi fa passare potenza arma non c'è niente non c'è niente appunto come questo è calato direttamente non c'è corrente non c'è corrente visto c'è qualcosa più avanti attento c'è ma veramente col mattone il mostro arriva prima di andare lì non ci voglio andare sopra non ci voglio andare da giù ci voglio andare da su tanto lo so che prima o poi dovrò andare a fare il giro io non so che prima o poi ci voglio andare a fare il giro io perché magari quelle cose dove c'erano idrita tutto è la sala di controllo è chiusa dall'altro lato no aspetta un attimo mi sono ricordato una cosa mi sono ricordato una cosa in quel buco di merda può passare alla bambina ma tu che fai i mattoni li lasci non lo so ma come sei combinata attento c'è qualcosa sul pavimento perché io non ti posso il mostro a merda a merda a merda il mostro ma tu guarda che cosa avevo lasciato dietro mi sembra normale cosa cosa ti sembra normale c'è qualcosa più avanti attento io me la squaglio già mi sono rotto se sei bravo apri le porte e mi raggiungi cos'è quella cosa lì un'erba verde ok combina con una bottiglia vuota per creare una bomba esplosiva una bomba esplosiva ma sarà meglio ma sarà meglio trovare un modo bene posso provarci posso provarci posso provarci l'altra parte a spegnere il generatore è l'unica soluzione che mi viene in mente ci sono dei punti che mi viene in mente Qua sul l'amato? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il generatore non si spegneva andando più di qua perché il tritatutto è arrivato qui. Oh no, devo andare a fare di nuovo il ciclo. Sono un idiota. Oh no, devo andare a fare di nuovo. Come sono andata? Troppo bene. Sei stata breve. Oh no, ecco. Facciamo la cacca. Potremmo uscire da quella parte, se avessimo via libera. C'è qualcosa più avanti. Attento. Chissà cosa sarebbe successo se non avessi messo... quella caccia a fiamme. Oh, eccolo lì sopra. Oh, cazzo. La caccia a fiamme. sta fermo non ti muove ma prima non c'erano questa cosa dai lo so che tanto si attiveranno le porte ho sparato e ucciso il soggetto J038 mentre tentava la sua fuga il suo corpo è stato smaltito secondo norma l'utilizzo della cella numero 1 all'entrata del secondo piano è proibita fino a che il muro non venga riparato ok serve aiuto cavolo pure lei vabbè l'abbiamo capito che Moira e questa ragazzina devono avere per forza qualcosa in comune ci sono personaggi no perchè la porta deve essere chiusa perchè la porta non deve essere chiusa prepariamoci per forza no perfora perfora Oh, 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 oh. No Questo colpo Quasi alto No Cazzo mi è rimasto solo un caricatore Cos'è questa? Cos'è questa? Cos'è questa? Cos'è questa? Cos'è questa? Siamo cambiati Quelli erano... Diciamo degli zombie Queste sono delle mummie Delle mummie zombie Cos'è questa? Cos'è questa? Cos'è questa? Cos'è questa? Cos'è questa? Cioè... Aspetta un attimo... Che devo fare? Vabbè che il buco è qui... Cos'è questa? 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 brava piccola puoi dirlo a parte andiamo ma sta recinesca era chiusa come che adesso è aperta